Inserire un titolo da gameplay complesso e bridato in un genere è sempre molto difficile, ma molti giochi dotati di più sistemi rientrano senza troppi problemi nell'ampio insieme degli Action Adventure. Ecco quelli che ci hanno sorpreso maggiormente quest'anno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.